Carissimi amici e amiche, siamo giunti all'ottava puntata di questo ciclo di catechesi dedicato ai vizi e alle virtù. Oggi, dopo un po' di tossicamento con il vizio capitale della superbia, un veleno tossico da cui adesso bisognerà fare un processo di depurazione spirituale, finalmente oggi torniamo a parlare delle cose più belle, cioè delle virtù e oggi parleremo di una virtù bellissima, ma peraltro la diretta di questa puntata e quindi anche la messa online immediata di questa stessa puntata capita in un tempo quanto mai propizio, che è il tempo di avvento, perché la virtù teologale della speranza è quanto mai adatta sia al tempo di avvento che anche poi allo spirito del Santo Natale. Una virtù bellissima, non molto conosciuta per la verità, perché la fede uno più o meno un po' una pallida idea ce l'ha. La carità molte volte se ne ha un'idea un po' limitata, magari perché si confonde la carità con le opere di carità o con qualche lemosina, che è evidentemente, come vedremo a suo tempo, una visione oltremmodo limitata e spaventosamente riduttiva. Però, insomma, qualcosa, ma con la speranza molte volte si fa un po' di fatica a identificarla. Eppure io vorrei intitolare questa prima catechesi, sicuramente non sarà l'unica, perché non è possibile in un solo incontro esaurire questa bellissima virtù, la vorrei intitolare proprio le ali verso il cielo, le ali per il cielo, perché la speranza, come vedremo, è quella virtù, detta proprio in due parole, che ci fa vivere sulla terra, ma come se stessimo già in paradiso. Ci dà la possibilità di spiccare il volo, quindi di camminare alla grande, di vivere una vita veramente spettacolare, e meravigliosa al riparo da tutta quanto una serie di bruttissime situazioni, passioni, stati d'animo distruttivi, che vengono completamente neutralizzati dalla speranza. Ora, vorrei io procedere nella presentazione di questa virtù in questo modo. Partiamo sempre dagli atti, come abbiamo fatto per la fede, perché l'atto di speranza, spero che tutti, vedete, spero, che tutti coloro che ascoltano questi cicli di catechesi, almeno le preghiere del mattino e della sera le facciano sempre. Io ho realizzato anche dei podcast, degli episodi del podcast che si chiama Preghiere cristiane e santi rosari recitati, dove si trovano le preghiere del mattino e della sera in italiano e in latino, quindi per chi apprezza di più questa cosa. Evidentemente all'interno delle preghiere del mattino e della sera si trovano anche l'atto di fede, l'atto di speranza e l'atto di carità, che in italiano l'atto di speranza dice così «Mio Dio, spero dalla Tua bontà per le Tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno». Capiamo già subito l'oggetto formale proprio della speranza, si chiama così, la vita eterna e subordinatamente a questo le grazie, quindi tutti quanti gli aiuti, i doni che il Signore ci fa in questa vita e a che cosa si servono? A compiere le buone opere che senza le quali vedremo, non si va in paradiso, assolutamente. Nessuno, dice Sant'Alfonso, nessuno provochi ottenti Dio servendosi di un uso distorto della virtù terogale della speranza. Citazione testuale di Sant'Alfonso, Dio detesta la speranza di chi si ostina al peccato, poiché questa speranza è un abominio. Una tala speranza provoca Dio al castigo, meritato da chi abusando della sua bontà lo ha offeso in tutti i modi. Quindi non è che, ecco, la speranza ha proprio oggetto le grazie necessarie per compiere quelle buone opere che si possono e si devono compiere. Quindi, e alla fine, Signore che io possa goderti in eterno. Ora vedremo che però la speranza non soltanto ci fa appunto camminare volando verso il cielo perché, figlioli miei cari, la nostra vita cristiana se è cristiana è una tensione costante verso il cielo. Noi qui su questa terra siamo di passaggio, non è qui su questa terra, stiamo vivendo una larva di vita. Anche chi per grazia di Dio sta in comunione con Gesù quindi sperimenta in qualche modo un anticipo remoto della felicità del cielo ma noi non siamo fatti, non siamo stati fatti per stare qua giù. Assolutamente. Siamo stati fatti per il cielo. è lì che tendiamo cioè il fine della nostra esistenza è il cielo il motivo per cui siamo stati creati è il cielo la speranza ci fa veramente tenere sempre il timone della nostra nave la nostra anima orientato verso il fine che è il paradiso. io vorrei tanto essere la famosa mosca con gli occhiali capaci di penetrare le coscienze per vedere quanti cristiani vivono così anche in relazione cioè pensiamo nell'attuale contesto storico temporale sociale politico epidemiologico se si vuole usare un termine oggi così tanto inflazionato guardate come si vede specialmente in un contesto del genere chi la speranza c'era chi la speranza non c'era quanti casi di disperazione adesso la virtù della speranza ci stanno come dire infinite occasioni per metterla alla prova infinite 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 allora io volevo dopo questa definizione procedere in questo modo ci sono una montagna di passaggi dei salmi anzitutto che parlano di questa bellissima virtù e vederla operante nella sacra scrittura è quanto di più bello possa esistere anche perché lo stesso catechismo della chiesa cattolica qui poi daremo un'occhiata indugia anche lui in una serie di passi biblici stavolta prevalentemente neotestamentari soprattutto la lettera agli ebrei e alcuni passaggi di lettere paoline dove si parla di questa virtù quindi l'immagine già biblica della speranza dà una dà una sintesi veramente meravigliosa di quello che è questa bellissima virtù per cui io procederei senza troppo indugiare andare a vedere un pochino di carrellata di carrellate bibliche sulla speranza pensate che soltanto nei salmi faccio un attimo un conto veloce abbiamo almeno due, quattro, sei, otto, dieci una quindicina di salmi sono pochi che fanno riferimento alla virtù cardinale della speranza che in ebraico ha un verbo radicale che è Q che significa proprio letteralmente in inglese to wait for quindi aspettare per cioè la speranza indica proprio questa dimensione costitutiva dell'attendere fiduciosamente però attendere fiduciosamente attendere serenamente attendere operosamente allora andiamo a vedere un pochino di questi di questi di questi salmi nel salmo 25 ce ne abbiamo già addirittura tre citazioni in uno stesso salmo è bellissimo è il salmo che comincia così mio dio in te confido che io non resti deluso non trionfino su di me i miei nemici e prosegue chiunque spera in te non resti deluso sia deluso chi tradisce senza motivo ora vedete che bello già qui allora il salmo comincia a te signore levo l'anima mia innalzo l'anima mia e poi versetto secondo mio dio in te confido vedremo che la confidenza l'abbandono la speranza sono realtà che si rimandano l'uno con l'altro sono realtà intercomunicanti adiacenti chiamiamoli come meglio vogliamo molto molto legate l'una con l'altra vedete qui no che io confido non resti deluso non sia confuso non trionfino su di me i miei nemici chi sono i nemici nostri i nemici dei nostri sono sono i diavoli anzitutto il diavolo è il primo nemico dell'anima il secondo è il mondo con i suoi idoli e con le sue follie e con la sua mentalità che è una peste bubonica e il terzo è la carne interessante la speranza chiunque in te spera non resti deluso ci mette già in condizione di opporci a questi grandi nemici chiunque in te spera non resti deluso qui si fanno già eco le parole del nuovo testamento chi spera nel signore non sarà deluso questo è il salmo 25 questo era il versetto 3 andiamo avanti al quarto c'è un passaggio fammi conoscere signora le tue vie insegnami i tuoi sentieri al quinto guidami nella tua fedeltà e istruiscimi perché sei tu il dio della mia salvezza tutto il giorno in te ho sperato in te spero in te spero tutto il giorno in te spero tutto il giorno bellissimo questa espressione il latino nella vulgata te sustinui totadie guidami nella tua fedeltà e istruisci vedete come questo salmo è una richiesta di aiuto al signore è un'invocazione guidami nella tua fedeltà guidami ad essere ad esserti fedele guidami nella conoscenza della verità istruiscimi perché sei tu il dio della mia salvezza la speranza fa ci fa rivolgere a dio come colui che ci tira fuori dai guai come colui che ci salva con la fede noi lo crediamo questo qui ma con la speranza lo rendiamo operativo perché tu non basta che tu credi che Gesù Cristo è il salvatore tu lo devi invocare come salvatore gli devi dire salvami e questo lo fa la speranza io spero in te tutto il giorno meravigliosa più avanti al versetto 21 che è il versetto conclusivo penultimo mi proteggano integrità e rettitudine perché in te ho sperato altra cosa tipica della speranza il senso di protezione mi proteggano integrità e rettitudine poiché in te ho sperato il senso il senso di protezione quando è che mi sento protetto e da chi mi sento protetto mi sento protetto da Dio se spero in lui bellissimo no questo primo step andiamo a vedere un altro salmo il salmo 27 bellissimo anche questo qui il salmo il salmo 27 personalmente uno dei miei preferiti è quello il signore è mia luce e mia salvezza di chi avrò timore il signore è difesa della mia vita di chi avrò paura con queste parole comincia attenzione e poi finisce con queste spera nel signore sii forte si rinsaldi il tuo cuore spera nel signore abbiamo due citazioni del verbo sperare quindi capite no il concepire Dio come luce e salvezza e l'assumerlo in questo modo il non avere paura il sentirsi difesi il signore è difeso della mia vita di chi avrò paura fanno come dire da introduzione alla conclusione del salmo spera nel signore sii forte nella virtù teologale della speranza c'è anche implicata la virtù cardinale della fortezza perché una persona che spera in Dio è forte perché perché si poggia sulla potenza e sulla fedeltà di Dio più che forte è proprio invincibile una persona che ha una speranza ferma vogliamo fare un esempio di applicazione ho fatto tante volte alle attuali contingenze storiche allora abbiamo questo grande nemico diamo per buono tutto d'accordo questo grande nemico viene a bussare alla porta della mia casa toc toc che cosa potrà mai succedere la cosa peggiore che esiste si muore e offriamo a Dio il sacrificio della nostra vita felicissimi che se lui così ha deciso la vita termina offro a Dio come dice Sant'Alfonso il sacrificio della mia esistenza chi accetta volontariamente la morte dice Sant'Alfonso non si farà manco due minuti di purgatoria e andiamo in paradiso no non si muore si dovrà soffrire oh benissimo il Signore mi chiede in questo momento di unirmi alle sofferenze di lui crocifisso di offrirgliele e come dice San Paolo di unire il mio povero sacrificio al suo grande sacrificio per il bene della Chiesa per la salvezza del mondo e di chi non conosce l'amore di Dio e allora benissimo spero che il Signore mi aiuterà mi darà le grazie mi darà la possibilità di saper soffrire con dignità con pazienza con rassegnazione con amore il Signore vuole che io rimanga in buona salute e sarò completamente protetto da tale sciagura benedetto sia il nome del Signore scusate ma al di fuori di queste tre possibilità cos'altro può succedere è chiaro che se uno c'ha la speranza rimane sereno se uno la speranza non ce l'ha vacilla a Roma si dice un altro termine insomma mi sta uscire il termine romano non è volgare si può dire insomma però vacilla gli manca la terra sotto i piedi sta angosciato sta intimorito altro che di diavrotta sta terrorizzato addirittura io ritengo che l'ho detto tante volte quindi senza che circostanze come quelli che stiamo vivendo veramente creano una altro che la divisione che sta che le divisioni che stanno creando artificialmente odiose tra categorie distinte di persone ma una 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 divisione come dire come dire non dico divinamente provocata ma oserei dire divinamente occasionata cioè qui emerge chi le virtù cristiane ce le ha e quindi vive in un certo modo questa situazione e chi le virtù umane cristiane non ce l'ha e la vive in un altro attenzione che prima della parte finale sono certo spera nel signore si forte si insali il tuo cuore spera nel signore sapete cosa dice questo sanno sono certo di contemplare la bontà del signore nella terra dei viventi allora per mezzo della speranza attenzione che la speranza mio dio spero della tua bontà per i meriti della tua promessa la vita eterna allora attenzione sono certo di contemplare la bontà del signore cioè non è che cioè quando uno pensa alla speranza generalmente dice beh la speranza vuol dire beh la vita eterna beh speriamo che c'è sta sta vita eterna sono tanto sicuro però con la speranza come dire in qualche modo mi do qualche input insomma speriamo forse ci starà ma quando mai cioè che ci starà non è materia di forse perché la speranza è attesa di un bene sicuro e certo l'unico problema è riuscire a conseguirlo ma che quel bene ci sia non c'è dubbio che dio me lo voglia dare non c'è dubbio e che dio mi voglia dare anche tutti quanti i mezzi per averlo non c'è dubbio l'unico dubbio è quello che combino io sono certo di contemplare la bontà del signore nella terra degli eventi spera nel signore sii forte si infranchi il tuo cuore spera nel signore questo era il bellissimo salmo 27 io suggerisco anche tutti e due i salmi che ho nominato chi ha la bibbia li prenda li reciti pregare con i salmi è una cosa bellissima ed è profondamente terapeutico per l'anima questi sono salmi molto adatti anche al momento storico che stiamo vivendo poi il salmo 37 bellissimo due ricorrenze al versetto 9 comincio a leggere dall'8 desisti dall'ira deponi lo sdegno non irritarti non irritarti scusate faresti del male poiché eccolo qui il versetto i malvagi saranno eliminati ma chi spera nel signore avrà in eredità la terra attenzione questa espressione vi ricorda qualcosa allora andiamo con ordine primo i malvagi saranno eliminati in base a cosa noi confidiamo nel fatto che i malvagi saranno eliminati i malvagi saranno sterminati i malvagi saranno separati dai buoni quantomeno nell'altra vita e anche dalle situazioni difficili di oppressione di angheria la storia della salvezza è piena cioè il signore le permette ad tempus e poi a un certo punto libera i suoi amici libera da sta cappa che ci opprime e che non è solo la situazione contingente presente questa roba vecchia stiamo sotto cappa demoniaca ormai non da due anni magari insomma da un bel po' di anni ma da questa cappa demoniaca saremo liberati d'accordo se certamente ora il problema è cosa facciamo scusate e come reagiamo fino a quando stiamo sotto il peso della cappa demoniaca questo è il problema ma che il signore interverrà a liberarci nei suoi tempi è sicurissimo cioè la virtù della speranza ci fa riposare nella certezza dei divini interventi a favore del suo popolo i malvagi saranno eliminati ma chi spera nel signore avrà in eredità la terra attenzione qui non si parla della terra qui si parla della terra promessa d'accordo la terra promessa israele e la terra promessa israele non è semplicemente un pezzo di terra come dire una località geografica dove poterti stanziare no non è solo quello ma la terra promessa è immagine del paradiso e il paradiso si vive sulla terra nella misura in cui si è in comunione con Dio questa espressione ci riporta subito alla beatitudine no che erediteranno la terra attenzione al versetto precedente desisti dall'ira deponi lo sdegno non irritarti faresti del male vedete come la sacra scrittura è un capolavoro perché i malvagi saranno eliminati ma chi spera nel signore avrà in eredità la terra quindi vedi il male dilagare vedi i potenti che trionfano che angariano i poveracci che li vessano non ti arrabbiare non andare a fare una montagna dei peccati non mandare gli accidenti d'accordo lasciali perdere hanno le ore contate sono morti che camminano se non si convertano tu spera nel signore spera nel signore e avrai in eredità la terra cioè tu vivrai in mezzo a queste situazioni volando verso il cielo librandoti al di sopra delle bassezze terrene nello stesso salmo sempre il 37 c'è un'altra citazione al versetto 34 e dice spera nel signore segui la sua via shamar è in ebraico segui custodiali ma custodisci ma custodisci come cosa preziosa la sua via ed egli ti innalzerà e ancora una volta collegata alla speranza e tu erediterai la terra e vedrai eliminati i malvagi la stessa cosa di prima quindi alla speranza qui c'è qui c'è collegata cioè chi spera custodisce la via di Dio la osserva meglio ancora shamar è in ebraico shamar è una custodia attenta è un'osservazione profonda coloro che osservano la legge del signore no salmo 119 beato l'uomo che cammina nella letta via ed osserva la legge del signore osservare coloro che osservano la mia parola dice Gesù nel Vangelo no la custodiscono come cosa preziosa allora qual è l'unica cosa importante da fare adesso in tempi di pro come in tempi di pace è osservare la via di Dio e per osservare la via di Dio bisogna conoscerla ma ci vuole anche la grazia per camminare in essa e chi è che ci mette in contatto con la grazia la speranza quindi capite che chi prega poco e chi frequenta i sacramenti poco la virtù della speranza è zero zero è morta e ancora vedrai eliminati i malvagi queste sono parole di Dio in ebraico è ti re resha im ra in ebraico vuol dire proprio vedere con gli occhi ra e i reshi i resha im sono proprio i cattivi i malvagi i malvagi proprio malvagi quelli che fanno il male ancora altro salmo passiamo al 39 altro salmo meraviglioso ora che attendo signore cosa potrei attendere in te la mia speranza ora che attendo signore in te la mia speranza anche qui contesto contesto questo è un salmo che parla ancora della oppressione da parte degli empi dei peccatori verso i giusti stiamo avanti ancora salmo stavolta siamo al 40 che si intitola proprio questo è proprio il versetto introduttorio ho sperato ho sperato nel signore ed egli su di mesi e chinato ha dato ascolto al mio grido mi attratto da un pozzo di acque tumultuose dice la nuova traduzione della cei un attimo vedere un po' il testo ebraico la traduzione antica diceva mi attratto dalla dalla fossa della morte no e dal fango della palude da un pozzo di acque tumultuose dal fango della palude ha stabilito i miei piedi sulla roccia vedete ha reso sicuri i miei passi la virtù teologale della speranza cosa 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 ci fa ci fa piantare i piedi sulla roccia e ci rende sicuri anche qui lo sfondo il vangelo chiunque ascolta le mie parole mette in pratica è simile a un mosaggio che ha costruito la casa sulla roccia chi spera nel signore sta sulla roccia non è scosso non tiene paura ancora ripeto non c'ha paura di niente di nessuno non teme non vacilla cammina spedito ha reso sicuri i miei passi sa dove deve andare quello che deve fare e non vacilla e non ce la fanno a tirarlo per la giacchetta fuori e lontano dai sentieri e dai voleri di Dio non ce la fanno altra citazione salmo 52 versetto 11 voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli spero nel tuo nome anche qui perché è buono salmo 56,7 no questo scusate salmo 69,7 o qui c'è una variante bella simpatica chi spera in te per colpa mia non sia confuso signore Dio degli eserciti per causa mia non si vergogni chi ti cerca Dio di Israele chi spera in te per colpa mia non sia confuso cioè fai in modo che io con la mia mancanza di speranza non confonda chi la speranza ce l'ha guai lo dico insomma non in termini minacciosi no a chi non è operatore e diffusore di speranza principalmente per noi che siamo figli di Dio c'è sempre speranza e che nessuno di noi confonda il prossimo Dio ci scampi insomma dal confondere i nostri simili o peggio ancora dal gettarli nella disperazione e dice anche per causa mia non si vergogni chi ti cerca Dio di Israele molto bella nello stesso salmo al versetto 21 dice l'insulto ha spezzato il mio cuore e mi sento venire meno speravo con passione ma in vano consolatori ma non ne ho trovati attenzione qui c'è il verbo della speranza l'abbiamo già detto prima qual era Q che fa vedere come mentre la speranza in Dio non delude ha la speranza nelle creature delude speravo con passione in vano consolatori non ne ho trovati adesso anche qui domanda per tutti noi questo è stasera una catechesi un po' d'altronde stiamo nei salmi noi dove cerchiamo la consolazione quando ci sentiamo giù l'andiamo a cercare nelle creature da chi la cerchiamo? per mezzo della virtù teologale della speranza sapete che succede? quando noi stiamo giù non andiamo a telefonare a Tizio Caio Sempronio a cercare il presunto amico oppure il prete oppure il parro adesso non voglio dire per carità si facciano queste cose o il confessore o il padre spirituale no no noi andiamo a cercare la consolazione in Gesù andiamo davanti al tabernacolo se possiamo e se non possiamo davanti al tabernacolo chiudiamo la porta della camera come dice Gesù e ci uniamo a tutti i tabernacoli del mondo che tanto con le distanze spirituali cioè nell'operazione spirituale le distanze è come se non ci fossero e cominciamo a cercare consolazione conforto speranza nella preghiera profonda sprofondandoci in Gesù entrando in dialogo profondo e intimo con Lui ascoltando la sua parola e poi lo Spirito Santo guida ogni anima secondo le caratteristiche e le sensibilità sue proprie personali e quando ti appoggi in Dio e cerchi la consolazione in Dio la speranza non delude lo sentiremo dire nel Nuovo Testamento la speranza non delude la speranza poi non delude dice San Paolo perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato Romani 5,5 l'abbiamo visto anche nei salmi chi spera non sarà deluso non va incontro a delusione perché Dio non delude mai anche se abbiamo avuto persone che ci vogliono tanto bene o cui abbiamo voluto tanto bene si vedrà che almeno in qualche circostanza in qualche momento in qualche situazione non sono state all'altezza ci hanno deluso ma è normale questo qui perché una creatura non può non deluderci perché è una creatura come noi è limitata se vogliamo non sentire l'amarezza della delusione mi aspettavo con passione speravo con passione ma in vano consolatori ma non ho trovati attenzione a particolare che abbiamo già visto il verbo ebraico della speranza indica anche una attesa un wait for abbiamo infine una citazione bellissima in un salmo molto molto conosciuto il latino si chiama il de profundis che è il salmo 130 no dal profondo a te grido signore eccetera eccetera nella parte centrale dice io spero nel signore l'anima mia spera nella sua parola letteralmente sarebbe proprio così eh io spero nel signore l'anima mia spera la sua parola attendo Yahal meraviglioso allora spero nel signore spera l'anima mia attendo la sua parola vedete ancora altra parola chiave che gira intorno alla speranza è l'attesa ho detto che questo è un tema particolarmente adatto al tempo di avvento che cosa significa l'avvento l'avvento è l'attesa dell'avvenuta del signore allora noi sappiamo che i tempi di Dio non sono i tempi nostri e a volte possono essere un pochino lunghi nostro signore l'hanno aspettato dai tempi di Abramo per duemila anni mica per una settimana insomma le promesse erano state fatte ad Abramo chi è stata ammessa oggi vedrà avrà ascoltato incredibile ecco la profezia della nascita della stella da Giacobbe da parte di un operatore delle arti magiche il mago Balaam mandato da Barak figlio di Zippor a maledire Israele quindi a fargli gli occhi secchi perché Israele si indebolisse così potessero essere vinti quello si presenta davanti davanti agli israeliti e anziché maledirli li benedisce e prevede la nascita del Messia ma i tempi sono lunghi per noi che siamo immersi nel tempo per Dio no perché Dio è al di sopra del tempo ma per noi sì quindi capiamo che capiamo che senza la la speranza diventa diventa difficile resistere all'incalzare e all'ogorio del tempo apro per chi segue le dirette di queste catechesi per favore evitare commenti fuori teme a sproposito domande dirette perché io non posso rispondere perché si disturba me lo dicono chi vuole ascoltare con attenzione questo è una catechesi quindi non è un posto per discutere o o per parlare di altro o per parlare con me perché sto seguendo un filo non posso rispondere né leggere le domande né rispondere ad esse quindi prego di evitare quando ci sono queste cose di di moltiplicare commenti che distraggono chi desidera seguire il filo del discorso e a volte distraggono anche me perché se vedo davanti una montagna di cose mi cicate l'occhio mi distraggono mentre sto parlando e seguendo un filo grazie ora accennavo che ho raccolto questa serie di citazioni dai salmi provando a fare una ricerca sul verbo ebraico il catechismo della chiesa cattolica quando parla nei numeri dal 1817 al 1821 della virtù teologale della speranza anche lui fa una grande un grande collage di brani biblici ne cito alcuni poi lo riprenderemo complessivamente adesso tra poco terminiamo questa puntata che appunto la dedichiamo proprio all'inquadramento biblico diciamo così di questa virtù allora prima citazione che fa il catechismo io per ora guardo soltanto le citazioni poi avremo modo anche di vedere cosa e come presenta il catechismo la virtù della speranza adesso vediamo soltanto le citazioni bibliche voglio notare che completiamo il discorso di questa sera la prima citazione è un passo della lettera agli ebrei manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza perché è fedele colui che ha promesso vedete la speranza con la relazione diretta alle promesse se c'è una promessa quella promessa il signore la compirà punto e siccome tra il compimento cioè tra la formulazione della promessa e il compimento della promessa intercorre un tempo e possono esserci delle sollecitazioni contrarie attraverso la speranza manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza della speranza ci impedisce di vacillare nonostante le prove le tribolazioni le persecuzioni nonostante a volte il fatto che tutto sembri remare contro ciò che speriamo e contro le promesse fatte da Dio per esempio la situazione di adesso una quante volte ho detto stiamo sotto la cappa del diavolo si sfoghi pure fino a quando vuole ma alla fine il mio cuore immacolato trionferà punto e basta è solo questione di tempo e durante questo tempo non bisogna mai vacillare mai vacillare significa tra l'altro dargli la vinta al diavolo dargli una grandissima soddisfazione di vederci mancare in questo modo seconda citazione lettera a Tito lo spirito lo spirito santo è stato effuso da lui cioè dal padre su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo salvatore nostro perché giustificati dalla sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna la speranza ci rende eredi della vita eterna attenzione che con vita eterna si intende ovviamente principalmente e propriamente il paradiso ma attenzione come avremo modo di vedere la speranza la vita eterna ce la comincia a far vivere qui perché una persona che è capace di vivere abbandonato in Dio confidando in Lui certo del suo aiuto certo della sua protezione certo delle sue promesse certo che nulla accade nulla Dio permette che non sia per il nostro maggior bene tutto il resto diventa invulnerabile quindi un anticipo di vita eterna quindi ce l'ha qui non deve soltanto aspettare che muoia Romani 4.18 cita la speranza eroica di Abramo egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli sappiamo uno dei luoghi dove è stata esaltata la fede di Abramo è stato certamente il sacrificio di Isacco d'accordo ecco però nel sacrificio di Isacco non è coinvolta soltanto la fede perché lui è andato come dire città Dio gli ha detto di farlo io vado ma lui sperava e ha sperato fino alla fine che Dio se inventasse qualcosa addirittura dice San Paolo l'ultimo oggetto della speranza dice vabbè l'ammazzo mio figlio me l'ha detto il nostro signore mi vuole provare vorrà dire che lui lo farà risorgere quindi capiamo come insieme alla fede operava in Abramo stesso la speranza ancora oh il bellissimo brano dobbiamo essere rivestiti con la corazza della fede e della carità scrive San Paolo nella prima lettera di Tessalonicesi e avendo come elmo attenzione l'elmo è la speranza della salvezza allora noi dobbiamo affrontare un combattimento spirituale contro i nostri nemici nei combattimenti spirituali non si può andare sprovveduti perché i guerrieri avevano un'armatura addosso e avevano un elmo in testa perché se ti danno una botta in testa tu sei morto d'accordo se ti arriva una freccia che si conficca dentro il cervello tu sei morto allora l'armatura la corazza secondo San Paolo sono la fede e la carità ma l'elmo è la speranza quello che ti preserva la testa possiamo utilizzare anche un'immagine come si fa a non perdere la testa adesso quando uno dice perde la testa perdi la testa se vacilla la speranza perché la testa non la perdi mai soltanto se rimani collegato con l'altissimo e sempre in te spero tutto il giorno abbiamo sentito dire sempre confidando e sperando nel suo intervento nel suo aiuto nella sua provvidenza nella sua bontà eccetera ancora sempre San Paolo Romani 12-12 siate questo è famoso è anche oggetto di una benedizione solenne della liturgia della chiesa siate lieti nella speranza e forti nella tribolazione ieri è stata la domenica gaudete ripeto la virtù della speranza è proprio la virtù dell'avvento e del Natale allora la domenica gaudete la domenica tra allegrati io ho fatto un paio di odiomerie citando San Giovanni in bosco i cristiani stanno sempre allegri il distintivo della santità è l'allegria ma è allegra una persona che spera nel Signore perché se tu ti guardi intorno per esempio adesso ma che c'è stato ad essere allegri se ti guardi intorno non c'è stato ad essere tanto allegri c'è stato ad avvenenarsi da stare a come dire a impregare dalla mattina alla sera se ti guardi intorno ma se speri nel Signore tu stai allegrissimo tu stai allegrissimo e attenzione questo bel collegamento di San Paolo lieti nella speranza e forti nella tribolazione cioè collega la speranza l'abbiamo già visto con la fortezza sono virtù strettamente collegate ancora altro passo biblico l'ultimo con cui concludiamo anche noi la Chiesa nella speranza dice il Catechismo prega che tutti gli uomini siano salvati la speranza della salvezza ovviamente la Chiesa sa che non tutti gli uomini si salvano ma la Chiesa al tempo stesso sa che la volontà salvifica di Dio è universale e quindi preghiamo incessantemente perché tutti nella speranza possano essere salvati e anche nella realtà possano essere salvati anche se sappiamo ahimè che purtroppo non è così io direi che oggi possiamo mettere un primo un primo punto ricapitoliamo un pochino quello che abbiamo visto speranza come sinonimo di confidenza di abbandono senso di sicurezza appoggiarsi nel Signore stare al sicuro rimanere saldi niente paure niente timori ecco collegamento porta ad accesso alla vita eterna strumento che ci mette in contatto e ci rende certi dell'adempimento delle promesse di Dio la prossima volta cominceremo un pochino una riprenderemo tutte quante queste cose e ne faremo una lettura sistematica ecco la prima anzitutto per quanto riguarda il catismo della Chiesa Cattolica poi vorrei anche riprendere una ancora questa virtù alla luce delle considerazioni di Santo Ammaso d'Aquino e di qualche altro piccola cosa ecco che vorrei metterci anche io questa è veramente una virtù bella focale e meravigliosa una santa e serena notte a tutti noi ci vediamo se Dio vuole per le dirette prossimo lunedì Dio vi benedica e la Santissima Vergine sempre vi protegga alla prossima amici